Tramite questa sezione è possibile creare, tramite il tasso genera, una serie di documenti successivi, come ad esempio l'ordine cliente. Per fare ciò possiamo, in maniera estremamente semplice, trascinare gli articoli che ci interessano all'interno del carrello e, tramite il tasso genera, creare l'ordine di riferimento. Una volta creato l'ordine, possiamo compilare i dettagli che ci interessano e, dopo aver verificato che sia tutto congruente alle nostre necessità, possiamo passare alla registrazione dell'ordine. A questo punto, dopo aver creato l'ordine, possiamo creare la fattura collegata tramite il tasto Crea sulla base D, che ci permette molto comodamente di avere il documento successivo senza dover inserire nuovamente tutti i dati. I dati possono essere ovviamente modificati o controllati, nel caso ci fossero degli errori, ma, laddove fosse tutto sotto controllo, possiamo anche in questo caso procedere alla pubblicazione e alla chiusura. Da questa schermata che vi si aprirà, possiamo passare direttamente al pagamento. Quindi, tramite ricevuta bancaria, possiamo iniziare il processo di pagamento della merce e, come vedete, in questo caso sono già stati inseriti anche i dati relativi al conto corrente. Una volta chiusa e pubblicata la ricevuta bancaria, vedrete che il semaforo si sarà modificato, nel senso che il pallino da bianco sarà diventato verde, per indicare proprio che il pagamento è andato a buon fine.